Eccoci qui ragazzi, buongiorno a tutti voi, buon sabato, buon fine settimana per noi tifosi della Roma sarà un fine settimana di soddisfazione per quello che abbiamo vissuto ieri ma anche rilassante visto che la Roma gioca lunedì alle 18.30 all'Olimpico contro la Salernitana quindi ci godiamo sto fine settimana in totale relax e senza troppo stress stamattina facciamo le pagelle di Bayern Leverkusen e Roma come sempre non so voi ragazzi ma visto l'impegno che dobbiamo fare nella finale di Europa League io da adesso in poi in campionato non dico che farei giocare alla primavera ma insomma farei giocare qualcuno della primavera sicuramente Missori, Tahirovic su tutti e preservare un po' quei giocatori che un po' per affaticamento un po' perché stanno rientrando adesso dagli infortuni sicuramente li farei insomma riposare o comunque giocare il meno possibile per fargli mettere minuti nelle gambe ma non spremerli in vista della finale partiamo con le pagelle lui Patricio sei e mezzo ragazzi ci ha provato il Bayern Leverkusen più che altro con tiri da fuori lui si è fatto trovare sempre pronto insomma nell'unica occasione in cui il tiro era insidioso ci ha pensato Mancini a impedire al giocatore tedesco di ribadire in rete insomma una partita attenta e di sostanza per il portiere giallorosso Cristante ragazzi voto 7 cioè Cristante ormai è diventato imprescindibile per questa squadra adesso sono 3-4 partite che sta giocando in difesa e sembra che Smalling praticamente non sia mai mai stato via la Roma ha subito pochissimo in queste nell'ultime tre partite abbiamo preso 0-0 per dirvi a Bologna e le due con Leverkusen con Cristante centrale di difesa abbiamo preso 0-0 quindi grande Brian valore aggiunto per questa squadra poi a Mancini e i Banez diamo un bel 6,5 anche loro attenti, concentrati sempre vigili, sempre sul pezzo sempre attenti, nessuna sbavatura ottima partita di entrambi specialmente i Banez ci voleva un po' di iniezione e di fiducia dopo insomma delle prestazioni alquanto deludenti nell'ultimo periodo Spinazzola voto 5 ragazzi purtroppo Spinazzola in questo momento poi è uscito anche infortunato dopo mezz'ora chiaramente lui aveva già sofferto all'andata di A-B e l'ha sofferto anche nel ritorno che i maggiori pericoli sono arrivati da quella fascia la traversa, altre azioni pericolose è un Leonardo Spinazzola purtroppo che quest'anno ci ha avuto parecchi bassi e pochi alti chiaramente veniva da un infortunio importante ne ha avuti altri durante la stagione purtroppo questo è un ragazzo che è veramente segnato dalle sue condizioni fisiche che sarebbe potuto diventare molto molto più forte ragazzi però ieri obiettivamente la partita da sua è stata insufficiente Selic gli diamo 6 perché comunque Selic pur con tutti i suoi limiti diciamo che ha fatto la sua onesta partita senza né troppo né sbavature né cavolate è un giocatore ripeto che non è che sia un fenomeno però ieri ha fatto la sua onesta partita anche lui è uscito per infortunio nel secondo tempo a Bove gli diamo 6 e mezzo ragazzi sto ragazzo a me mi fa impazzire mi fa impazzire perché è un professionista serio dimostra molto di più degli anni che ha è uno che fa un lavoro oscuro che non lo vedi tanto in possesso palla ma senza possesso copre tutto il centro campo ieri un po' sofferto nel primo tempo poi nel secondo invece ragazzi ha dato veramente tutto è stato uno dei migliori veramente un altro valore aggiunto ad questa squadra Matic ragazzi 7 e mezzo migliore in campo ieri Matic ha dato prova ancora una volta di essere un giocatore di categoria superiore non c'è niente da fa superiore, superiore, superiore perché tatticamente è perfetto sta sempre nel posto giusto al momento giusto non sbaglia un passaggio non prende mai la decisione sbagliata c'ha tanta qualità uno dei centrocampisti più forti che ci stanno in questo momento in Italia sicuramente al capitano cegliamo un bel 6 perché comunque ha fatto una partita di grandissimo sacrificio tornando spesso più in copertura che in avanti le poche volte che è riuscito a perdere palla ha cercato sempre di mantenerla di procurarsi delle punizioni di cercato di far salire la squadra magari non gli è riuscito sempre ma partita di grande sacrificio del capitano a Belotti e a Abram ragazzi gli diamo 5 e mezzo perché è pur vero che non è colpa loro perché comunque l'atteggiamento della Roma ieri era abbastanza di copertura non è che ci siamo proposti in avanti per niente se può dire loro hanno corso tanto tanto a vuoto però le poche palle purtroppo che gli sono capitate poi non le hanno anche gestite male non sono mai riusciti ad andare via l'avversario a far salire la squadra ci si attendeva un po' di più parlamoci chiaro però chiaramente il tipo di partita non era adatto agli attaccanti ieri hanno corso tanto hanno fatto tanto sacrificio però insomma l'insufficienza bisogna purtroppo dargli perché comunque avrebbero sicuramente potuto far di più durante la partita poi abbiamo visto in campo Di Bala non è sceso in campo perché è risparmiato per il proseguo della stagione c'è i suoi acciacchi a Mourinho diamo sette ragazzi perché Mourinho con la rosa che ha in questo momento con la condizione fisica dei giocatori in questo momento con gli infortunati che ci sono stati non si poteva far di più l'atteggiamento della squadra ieri era quello giusto perché non potevi avere un altro tipo di atteggiamento ieri si è rivisto anche Smalling e devo dire che l'ho visto bene è entrato in difesa io lo preserverei piano piano per farlo diventare a grati per queste partite prima della finale ieri Mourinho ha detto che anche Llorente sta per tornare che Wijnaldum sta mettendo minuti nelle gambe insomma ragazzi gli infortuni di Spinazzola e Selic non credo che siano gravissimi ma non credo che ce la faccino per 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 la finale poi tutto può accadere però anche Scharau sta sulla via della guarigione insomma ragazzi sarebbe veramente tanta tanta roba arrivare al 31 con la rosa al completo o quasi in modo di giocarci tutte le nostre carte in una finale difficilissima col Siviglia che in Europa League c'è una tradizione spaventosa però la Roma quest'anno le partite che contano non le ha toppate e Mourinho non le toppa le finali e qualsiasi cosa accada comunque ci sarà da ringraziare questi ragazzi perché quello che hanno fatto in Europa League è qualcosa di straordinario quest'anno ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate del video scrivervi al canale tanti like commentate e vediamo di fare qualche contenuto anche nel weekend sempre sempre forza Roma e buon fine settimana